Giornata interlocutoria quella di oggi al Tribunale di Pescara nell'udienza preliminare sull'inchiesta Fira che vede 104 imputati tra persone e società coinvolte nella famosa operazione bomba che tre anni e mezzo fa devastò il panorama politico abruzzese e poi ha dato il là all'inchiesta su Sanitopoli. Un'udienza sostanzialmente tecnica in cui il legale che rappresenta la Fira, l'avvocato russo, ha esposto le ragioni per le quali la finanziaria regionale ha chiesto di costituirsi parte civile. L'avvocato Cirulli invece è tornato sulla questione della ricusazione del giudice per l'udienza preliminare Bertone e a tal proposito si è sempre in attesa su ciò che deciderà in merito la Corte d'Appelo dell'Aquila. Ma l'aspetto più importante di cui si è discusso questa mattina riguarda la competenza territoriale dell'intero procedimento. Secondo alcuni avvocati infatti il processo dovrebbe tenersi non a Pescara bensì a Chieti in quanto la stragrande maggioranza delle società e delle persone coinvolte sono della provincia teatina. C'è chi pensa che potrebbe esserci anche l'ipotesi Lanciano oppure l'Aquila. Una questione certo non di lana caprina perché se dovesse essere accettata la tesi dell'incompetenza territoriale il procedimento avrebbe di fatto un nuovo stop che potrebbe essere devastante in funzione della prescrizione che è sempre dietro l'angolo. Dopo un paio di ore di dibattito il GUP ha deciso di rinviare il tutto a venerdì prossimo 23 aprile quando ci sarà la replica dei pubblici ministeri che diranno la loro sulle costituzioni di parte civile e soprattutto sulla querella relativa alla presunta incompetenza territoriale. Il 30 aprile poi sarà lo stesso Bertone a dire la sua su tutte queste questioni tecniche.